Ciao gruppo Vella Professional Sardegna, oggi è stata una giornata favolosa, abbiamo parlato con un sacco di voi sul progetto The Club, che cos'è The Club? The Club è un club, proprio come dice la sua bella parola, che mette insieme un sacco di parrucchieri come siamo tutti noi vogliosi di conoscere, vogliosi di studiare e capire qual è la chiave per costruire delle forme su misura, per costruire dei colori su misura basati su un concetto semplicissimo che è l'armonia e le proporzioni attraverso la morfologia, ma a questo si aggiungono le collezioni, a questo si aggiunge soprattutto una delle cose più importanti, da soli non si sta bene neanche in paradiso, quindi un lavoro fatto veramente di squadra dove condividiamo, ci raccontiamo delle esperienze e delle cose e attraverso i contenuti The Club il nostro obiettivo è quella di aumentare i profitti del salone con degli strumenti concreti, quindi uno più uno fa due e oserei dire addio fuffa ma cose concrete, quindi vi aspetto in numerosi e divertiamoci facendo il nostro bellissimo mestiere.